Quest'anno è assente in Grappa il presidio sanitario, i problemi sono sempre gli stessi, mancano i fondi, la Regione sta pensando ad un aiuto? Sì, stiamo esaminando il problema in quanto il compressore del Grappa necessita di un intervento importante sotto il profilo ospedaliero di assistenza immediata. In questi anni il SUEM ha avuto un ruolo importantissimo, ricordiamoci i numerosi interventi che ha fatto, ma soprattutto essendo il compressore del Grappa molto frequentato da turisti durante il periodo estivo ma anche invernale, è giusto garantire anche un servizio di qualità, un servizio che magari attualmente le ULS faticano ad avere, a dare, perché comunque il SUEM ha tutta una serie di attrezzature e mezzi adatti proprio a raggiungere quelle zone un po' impervie e quindi come Regione stiamo anche valutando la possibilità di vedere, distanziare magari quei soldi, quei finanziamenti necessari per poter attivare il servizio anche per quest'anno e per gli anni successivi. I tempi sono stretti, siamo già a metà luglio? Stiamo vedendo tra le righe del bilancio dove possiamo trovare questi soldi, ma contiamo di dare una risposta concreta a breve termine. Si impegnerà in prima persona per portare questa esigenza del territorio bassanese in Regione? Porterò la problematica in Consiglio regionale e conto di dare quanto prima è possibile una risposta concreta.